Sono emozionatissima per l'esperienza che abbiamo potuto vivere oggi. Ringrazio vivamente la scuola, abbiamo capito com'è il mondo del lavoro, come si lavora in un team. L'adrenalina in corpo è stupenda, un momento unico e devo ringraziare l'Accademia e anche le mie colleghe perché è stato un momento indimenticabile. Per chiunque dovesse intraprendere un percorso del genere, consiglierei sempre di iscriversi all'Accademia di Liana Paduano, ti tocca con mano ogni tipo di trucco, di campo, ambiente e quindi è molto molto consigliata e la consiglio a tutti quanti. Il mood bronzo-rosa che abbiamo ricreato è eccellente come sempre. La scuola di Liana Paduano è veramente eccellente perché ormai io senza di loro non riesco più ad andare in passerella.